allora sta scrivendo al telefono con chi? con figlia con te si sa? no in una città siamo un ristorante ora si prende le rondine se ce le vedano dove sono? non c'è più un'anima ecco ho acceso il video e le rondine ne manco una brutta maria ma come mai ora sembra eccole qualcuno è bellino guardami su ma fanno più casino quella allora un nido è qui poi un altro è qui poi dove c'è una qui un altro è lì con rondine allo sguardo un altro è lì questo è il ristorante questo è il ristorante con tutte le sedete con rondonine incorporate poi abbiamo il gattino che aspetta da mangiare ecco qua che vuoi? dai un qualche amore che gli puoi dare? quel cazzo magari se non mi dicevi era meglio ma insomma vabbè non c'ho niente amore aspetta da mangiare qui abbiamo il prato con rondonine perché non avevamo quella stronza insomma ma gli altri facevano un cassino bestia dove so dove so perché sono andate via tu? ora ora con questa chitta io l'ho trattata male aspetta aspetta ma io voglio le appare rondine ma dove so io? ma scudo ce la fa il video eh io voglio aprire una sigaretta vai si può fumare anche lì siamo all'aperto vuol dire il cilicino? ecco il gattino aspetta amore ci ha mangiato più di me il nome si gonfio no e lui è gonfio guarda là che ora poi ti faccio i riguardi i video guarda e pancia fa paura eccolo andiamo via dove vai? dove vai? guarda i occhi celesti vai dobbiamo stare ora c'è topini dai tuo piccolo ve lo puoi chi fa sali? eh? fa la fine fa la fine ora la trovo eh si questo lo so ha fatto una trick ah si ci rito non rompe la foto capagallo per tutta maria si è normale che dimenticare che fa l'operaio ora non ti si vede più e fra l'erba fa male fumare io ho smesso è sì sì le sigarette si voglia da mo quindi io volevo prendere rondini se non ci so più ecco le rondini basta si va al mare saluta polpa